Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora lontana dall'Italia, andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile. Il dettaglio di sabato 10 giugno. Sul Veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso generalmente assenti sulla costa o al più locali. Piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie minime tra 15 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 24 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.